Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di aggiornamento sulla partita di Crossroads Ed eccoci qui ragazzi in questa casa che era la casa di Brent e Brent un po' rinnovata E chi saranno mai questi due personaggi? Beh, rispetto all'ultimo aggiornamento è passato tanto tempo E tante cose sono cambiate Intanto posso dirvi che la nostra Maria è cresciuta tantissimo a livello professionale Vi ricordo che lei nella carriera di stylist slash fashion blogger Sta avendo veramente successo anche col suo marchio, col suo brand di abiti Quindi lei è veramente una stilista a tutti gli affetti E ha fatto tantissimi passi da gigante Ha organizzato diversi eventi di beneficenza E in uno di questi, facendosela comunque con gente molto ricca Ha conosciuto lui, quello che era l'organizzatore dei buffet, il nostro team Gata Che sarebbe il figlio, ve lo faccio vedere subito, lui viene da Sulani Di Leila e di Oliana, sempre Gata Che tra l'altro, con l'aggiornamento sulla progressione delle storie di quartiere Ha avuto altri sei fratelli, con un totale di sette figli E infatti ho bloccato la nascita e l'adozione dei bambini ragazzi Perché veramente il gioco poi stava peggiorando di gran lunga Avendo lui organizzato il buffet, non era proprio così Prima ha avuto un makeover Ha subito un makeover Ha incontrato Maria Maria che nella sua umiltà e nella sua umanità Ha subito trovato Taino Un tipo molto particolare, simpatico Colena, tipo di buona forchetta Adesso la vedete così tanto in forma Ma semplicemente perché a volte le capita di fare un po' di ginnastica Lei sostanzialmente nuota, ama a nuotare Ma non rinuncia alle sue curve Come vedete ha un fisico bello tondeggiante, prosperoso Se vogliamo metterla in una categoria Lei ha un fisico proprio da curvy Infatti il suo brand incentiva proprio la differenza La diversità, no? Delle varie fisicità E quindi anche per questo sta avendo tanto successo Rispetto a incentivare, promuovere l'immagine della classica modella E' giusto, ed è questa la teoria di Maria Che ogni persona possa essere considerata un modello Quanto meno un modello di se stesso Non dobbiamo per forza essere tutti uguali E proprio per questo Il suo brand ha avuto successo Con te i ragazzi è stato subito amore Veramente Hanno subito creato una forte amicizia Ma insieme all'amicizia è nato l'amore Si sono frequentanti per poco tempo Ma entrambi si sono perdutamente innamorati l'uno dell'altra Guardate quanto è bella Ma guardate Vi ricordo tra l'altro che lei fu adottata da Brent e Branto Quindi non è una loro figlia naturale Ma è bellissima Proprio così naturalmente Io non avevo mai modificato i sitratti Nulla E' proprio così Ed è stupenda Soprattutto con questo no restyling che ha subito Lei è una vera stilista Ne capisce di moda E a proposito di questo Aveva bisogno di uno spazio sempre più articolato Per diciamo il suo lavoro Per la sua impresa Per cui si è creato uno studio Veramente Con tutti i crismi Sì Brent andate a passeggio E ha creato qui quindi il suo studio Che vi mostro subitissimo Allora Intanto la faccio un attimo venire qui Perché deve appunto aggiornare lo studio Il suo stato Sul social network E le faccio anche condividere l'immagine Cosa che può fare molto utile Per il nostro sito Perché vi ricordo che lei ha un sito Lo creò grazie a Brent Il sito del suo brand E questo ragazzi è il suo studio Veramente bellissimo Qui c'è la sua scrivania Qui vabbè Vari premi Ricordi E tanti Questo è il logo Questo è il logo del suo brand Quindi è proprio Il simbolo Dello stile delle create E questo è uno degli abiti Uno dei primi che ha fatto successo Con La nostra Con il nostro marchio insomma Qui ovviamente Trovate tantissimi Ecco qui Tantissimi abiti Perché vengono molto spesso Le modelle a provarsi vestiti O gente che ha bisogno Veramente di un restyling E lei lo fa Vi faccio vedere infatti Le foto di quello che succede Molto spesso C'è gente che è veramente Era vestita In maniera indecente Senza Come dire Evidenziare Poi risalto I propri Le proprie Positività E punti di forza Relativi al loro fisico E lei riesce Benissimo A farle rinascere Qui vi faccio vedere Come proprio in virtù Del Del fatto che Lei è creativa È piena La sostanza Di dipinti Molti Li ha creati Proprio Brent Ma alcuni Li ha creati Lei Lei fa tanta Pittura Dipinge Tanti quadri Illustrativi Perché insomma Si crea delle bozze Per gli abiti Che deve Creare Ma soprattutto Lei è riuscita a fare Tutto ciò Crescendo una bambina Già dalla gravidanza Cioè Il momento in cui Lei è rimasta incinta Lì è stato Che ha cresciuto Ha avuto Questo Questo successo Quindi veramente Tante cose Tonte insieme Ma lei è riuscita A gestirla Anche perché Ha sempre avuto Il sostegno del marito Ma soprattutto Di Brent E Brant Ma andiamo adesso A Brent e Brant Brent e Brant Hanno avuto tanto tempo Da dedicare L'uno all'altro Veramente A relax Più totale Brant Soprattutto No Era andato in pensione E quindi Ha lasciato Il suo Il suo Lavoro È andato in pensione Quindi si è goduto la vita Andava a pesca E veramente Sono rilassati tanto Finché non è arrivata La nostra Pupetta Che abbiamo chiamato Tra l'altro Brenda Così Gioco le aveva dato Questo nome Io l'ho accettato Tu hai già parecchiato Ma lui si è addormentato Vicino Hai tosto Che avete preparato insieme Ma dai Vabbè io sta cosa Non posso Veramente Non posso Non fotografarla Non ce la posso fare Allora Prenditi una porzione E Aspetta che ti raggiunga Anche mamma Ok Perché Oddio A quanto pare Papà ha già finito E Quando la nostra La nostra E quando la nostra Branda è nata Brant Era iperfelice Ma Brant Ragazzi Era l'uomo più felice Al mondo Se ne occupava Quasi costantemente Lui Della sua piccolina Però lo sapete Il tempo passa per tutti E a un certo punto Lui se lo sentiva Ragazzi Aveva Questo presentimento Infatti Andava fuori In giardino Nel suo angolino Nella sua osi pacifica Qui Si metteva sempre A dipingere E Dipingeva Come potrete notare Dipinti Tristi E infatti Una sera Non ve lo nascondo Brant lo raggiunge E gli fa Brant lo raggiunge E gli fa Un bel massaggio rilassante E A un certo punto Poi è successo Mentre stava Ballando Brant Assiste Alla morte Di Brant E' stato bruttissimo Ha vissuto Però una vita pacifica E' morto di vecchiaia Ragazzi Quindi Non è Non è successo Nulla di Insomma Di accidentato Che doveva succedere E Hanno sofferto tutti Tantissimo Degli amici Ai parenti E Per ricordare il suo nome Essendo Brant Ve lo ricordo L'artista più famoso Di Brindleton Bay Decisero di fare Un funerale Con tutti i crismi Gli organizzarono infatti Una funzione celebrativa Al museo di Brindleton Bay Che ora porta il suo nome Non è più isola d'erba morta Ma L'avrete visto dai miei post Sui miei social Soprattutto su Instagram Si chiama ora Il museo di Brant Hacking Brant Hacking's museum Dove c'è anche la sua lapide Con tanto di Con tanto di Statua celebrativa E commemorativa E' una tomba Quindi dedicata a lui Vi ricordo che lì trovate anche La stanza Dove si tengono le lezioni di pittura Che porta il suo nome E un'intera ala di quel museo Con i suoi capolavori La funzione è stata bellissima Maria Ma anche Diciamo tutti i suoi amici Erano presenti Ma tutti i cittadini di Brindleton Bay Erano presenti Maria aveva letto un libro Con il quale ha vinto anche Il premio delle stelle Che si chiama Spero di averne ancora una copia Aneddoti curiosi e poco noti Del celeberrimo Brant Hacking Poi ha anche pubblicato altri libri Sulla moda Ma è stato questo Il libro sul suo papà Che gli ha fatto ottenere Il premio delle stelle Quello che trovate qui Nel suo studio Eccolo qui Ecco qui il premio E qui ci sono anche le foto Di lei con il suo premio Alla cerimonia Del premio delle stelle Oddio Allora Brant Raggiungi anche tu Maria e tua nipote a mangiare Volevo dire Brant Brant ovviamente È longevo Per l'aspirazione Che ha fatto sull'atletica Quindi sicuramente Sopravvivrà Sopravvivrà anche a Brenda Ma Diciamo questo Non ci dispiace È triste È molto triste Da quando è morto Brant Da quando è morto Brant Però devo dire Che i suoi amici Non solo La sua famiglia Li sono stati Tanto vicino E questo Tra l'altro evento Si è aggiunto alla morte Di cui parlerevo Nel altro episodio Di Anastasia Anastasia Che si era trasferita Ve lo ricordo Con Monica E Pierce A Hanford Ha morto anche lei Di vecchiaio Dopo essere stata molto vicino Suo nipote Però ci ha rimesso anche lei Le penne Da quel momento Comunque Dalla morte di Brant Brant è stato veramente Molto triste E ha avuto il sostegno Soprattutto Devo dirlo Di Supriglia Che tra poco Conoscere anche lei Ci mette Voglio dire Schietter anche lei Ragazzi a me Purtroppo Così che va la vita E lui vedrà Tutti i suoi amici Veramente lasciarlo Perché lui è longevo Lui raga Morirà Molto 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 tardi Diciamo che È un po' esagerata La longevità Che gli attribuiscono Con questa aspirazione E proprio per questo Gli ho messo anche Un'altra aspirazione Che è quello Di asso della pesca Tanto a tempo E soprattutto Si occupa Anche Degli animali di casa Hanno adottato Prima un gattino Adesso si occupa Soprattutto Brenda Che si chiama Mia Ed è bellissima E oltre a questo Hanno adottato Anche questo cagnolino Piccolino Piccolino Che si chiama Indiana Dove sei Indiana? Indiana Indiana Eccoti qua Con questo abito Stupendo Ma ve lo faccio vedere Senza abiti Perché in questo modo È più piacevole Alla vista Un cagnolino Stupendo E curioso Quindi va continuamente Dispezionare la casa Guardatelo com'è Guardatelo com'è Io lo adoro E Brent Scusatemi E Brent Si occupa Soprattutto Degli animali Perché ormai Anche il giardino Stesso Dai un bacio A tua moglie Mio caro Tain Mio caro Tain Dai un bacio A tua moglie La baci sulla guancia E gli dici Beh amore Senti Io adesso vado Lui le ha proposto Il matrimonio Quando ho ricevuto Una bella promozione Di quel giorno Conserviamo Anche un ricordo Perché Perché era un giorno Molto particolare Vediamo se lo trovo Da queste parti Qui intanto Abbiamo anche Una foto ricordo Di Anastasia e Monica Le due migliori amici Le due migliori amiche E qui altre foto Vi ricordo Che qui ci sono Le foto del matrimonio Del rinnovo Delle promesse Di Brent e Brent E voglio però Mostrarvi la foto Dove c'è Praticamente Tain Che è un nome stupendo Secondo me In tutta La sua bellezza Per favore Brent Questo puoi ripongilo Come vedete Dalla casa Non ho rimosso Le foto Di Brent e Brent Perché C'è lo spirito L'aura Di Brent Deve sentirsi Anche dopo La loro dipartita Ecco Qui la foto di Tain Bello fiducioso Nella sera Stessa in cui ha ricevuto Una promozione Ed è diventato Quello che praticamente È ora Tra l'altro La sua aspirazione È quella di diventare Un super genitore Capo Fornitore Di catering Lui si occupa Soprattutto Della pasticceria Lui vuole essere Una vera e propria pasticcera Infatti molto spesso In forno a dolcetti E li vende Alla pasticceria Ed è lui Che molto spesso Ve lo faccio vedere Si occupa Quasi sempre Devo dire la verità Insieme Alla sua La sua figlia Dell'orticello Della serra Anzi Perché Gli sto facendo fare Anche L'abilità Di composizione Floreale In modo che Ogni tanto Se ne esce Con qualche Composizione Bucche da regalare A sua moglie Qui ragazzi Abbiamo la bici Solinga Con cui il nostro Brent era solito Oddio Dare in giro Per Brindleton B Molto spesso Come avviene In questo momento Brent se la prende E se ne va in giro Proprio per Ricordare i post In cui stava sempre Con Brent In questo momento Maria Ecco Ripulisci Perché Devi Occuparti Anche di esporre Su Plopsy In realtà Nel nostro caso E sul suo sito L'abito Che hai appena Fatto E te ne vai Nel tuo studio Ok Qui A lavorare A maglia Altri maglioni Noi adesso Abbiamo fatto Tutti questi Tutti questi Che vedete Li abbiamo fatti E Siamo arrivati A questo punto Sì Maglione grigio E ho intenzione Quella di fare Tutti i capi Di lana Nel frattempo Qui abbiamo Ve la mostro Più da vicino Perché io L'adoro La nostra Brenda Ecco Mettiti L'abito Insomma Per tutti I giorni Guardate Quanto è carina Io la lascerei Con questo Qui oggi Ed è una bambina Molto speciale Devo essere sincera Ragazzi Perché Sei bellissima Sei bellissima Dò un bacetto Anche al tuo cane Indiana Indiana Abbraccialo Ve la faccio vedere Da vicino È proprio un misto Tra Brenda E Tane Con questa Pettinatura Secondo me Perfetta E dolcissima E lì è l'ispirazione Di creatività Ragazzi Cioè qui La creatività Si respira In casa E Ti faccio mettere Subitissimo Sapete cosa Qui c'è anche La macchina Fotografica Ecco Non ho appena Acquistato Il kit Su Insomma Il campeggio Per i bambini L'ho subito Organizzato Vi faccio vedere Anche le foto Nella serata Che passo insieme Al suo gruppo Del quale fanno parte Sia Roberta Delgato Che è Carmelo Delgato I due cugini Vi ricordo Che Roberta È la figlia Di Alessio Beda E di Ivi Mentre Carmelo È il figlio In onore a Carmelo Berlinghiere Di Monica E Pierce Poi ci sono Altre persone Nel gruppo Tra cui Due sue cuginette Cioè Era veramente Ben organizzata E Ho voluto lasciarlo così Insomma Perché C'è tanto spazio In questo giardino Ok Qui c'è anche La sua casa delle bambole Ma io ti direi A questo punto Non andare fuori Anche perché c'è un po' di vento Non voglio che ti raffreddi Cara Voglio che Ti concentri Sui tuoi disegni In questo modo Vieni qui Siediti E disegni Abbiamo disegnato un animale Facciamo le forme Così vi mostro anche La sua stanzetta La sua stanzetta Che prima si trovava In quello che era Prima lo studio di Brent Quando era solo una bebé Ma adesso Diciamo Crescendo Aveva bisogno Di più spazio Ed ecco a voi La stanzetta Con i ricordi Della vacanza fatta a Solani Guardate che carina Veramente Ho cercato di farla In maniera abbastanza completa Le foto di lei Da piccola Da bebé Era veramente la vita Qui Brent Che la tiene in braccio Quando era solo una neonata Lei Foto che Le ha fatto Sua madre Guardate come sempre Vestite in maniera impeccabile Perché Maria Ci tiene Altri dipinti Di Brent Veramente Suo nonno E ovunque Qui Lei quando era bebé Con il papà Quanti ricordi Ragazzi È passato tantissimo Tantissimo Tempo E questa È la sua stanzetta Veramente Molto Molto Carina Di cui trovate anche Il letto a castello Ho cercato di sfruttare Al massimo Lo spazio Ma andiamo giù In quella che era La stanzetta Di Maria Che ora è una camera da letto Proprio Bella Signorile Eccola qui Con Alcune delle collezioni Del tesoro Di Solani Ricordi Ricordi Anche del suo papà Che è sempre con lei Ricordi Della vacanza A Montecomorevi Di quando lei era piccola Con Monica C'è queste foto Non le ho volute cancellare E guardate che bello L'effetto del muro Ovviamente A questo dipinto Non potevano Metterlo E questo è il loro letto La camera da letto È abbastanza Moderno Come il resto Della casa Diciamo Il resto della casa Poi lo conoscete Qui ci sono ancora Tutti i dipinti Di Brand C'è questo angoletto Ma soprattutto C'è il nostro Famoso balconcino Scendendo però Vi faccio vedere Come è diventato Ad oggi Lo studio Lo studio L'ex studio Di Brand Allora Abbiamo qui ancora Tutti i ricordi Dei suoi quadri Ragazzi Non è paura O sbogliatezza Veramente Ho cercato di conservare Tutto Perché Brand Anche se è morto È proprio Dentro ognuno Di loro Nei ricordi Nei gesti Che compiono Quotidianamente Voglio ricordarlo È la prima volta Che Veramente Vivo Un lutto In maniera così piena E che un sim Sopravvive La morte Nei cuori Nelle menti Dei suoi familiari E quindi Ecco a voi Il soggiorno Come si è trasformato Accendo la luce Così potete ammirarlo meglio Questa luce Eccolo Eccolo qui Ditemi Cosa ve ne pare Ovviamente Qui ci sono tutti i ricordi Perché qui Ad oggi Dorme Brand Perché Dorme Brand Perché Che ovviamente Ha voluto dare Quella che era La loro camera da letto A Brand Abbiamo allargato Lo studio Di Maria E lui Apre questo Letto ribaltabile E dorme qui Cosa ve ne pare Di questo studio Non è una meraviglia Io lo adoro Brand Sempre ovunque Che ve lo dico a fare Era proprio bello E da fuori Quando a volte Viene qui A dipingere Maria Controlla La bambina Qui c'è sempre Poi Tane Che viene A occuparsi Della serra Ma ora Sta scappando A lavoro E questo È Diciamo Una parte Del porticato Che ho rinnovato Guardate Ditemi Se non è carino È veramente Fuori abbastanza Non voglio dire Country Ma comunque Stile Provenzale Questa parte Della casa Molto separata Dall'interno Guardate Che bello Questo ongolino Con La glicine Orea Tunno Quindi non Non è bellissimo L'effetto Ma veramente Le piante Sono ovunque Poi Dall'altro lato Del giardino Ci sono stati Dei cambiamenti Quindi a parte A parte questa zona Qui con Diciamo Le due Sedute Abbiamo aggiunto Una piccola Evola Piccola Insomma E abbiamo Aggiunto Anche Un piccolo Pergolato Abbiamo 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 Rinnovato I tavoli Con Le sedie Abbiamo aggiunto Questi divanetti Qui Con le candele Carinissimo Vero Poi quando Diciamo Ci sono i party Gli ospiti Si siedono Qui Accendono Questo tavolo Con le candele E poi Qui c'è La postazione Del nostro Brand Con tanto Di pista Da pallo And That's it Ragazzi Abbiamo Infine Qui Uno spazio Per il gatto E la casa Delle bambole Della nostra Brenda Non che Il solito Laghetto Oh Ciao Piccolino Con le tartarughe Le rane Le lubellule Le lubellule E' stupendo E questo angolo Che diventerà L'angolo Di Maria Non appena Lei potrà Di Brenda Scusate Allora Intanto Io propongo Fai un altro Disegno Disegna Un mostro Si Mentre Brand Brand E' ancora Qui in giro In bicicletta Dove sei Brand Oh Ciao Ma ditemi Se non è carino Io amo Questa bici Ragazzi Allora Questo Diciamo E' l'aggiornamento Di quanto è venuto Fino ad ora E Devo dirvi una cosa Maria E te Non sono sposati Perché Insomma Lei è rimasta incinta Non appena iniziata La convivenza Con te Convivenza Tra l'altro Appoggiata Da Brent E Brent Perché Per il lavoro Che fa te Orari Tremendi Loro Si vivevano Molto poco Lui poi Era di sudani Quindi veramente Era più comodo Per loro Convivere insieme E lei poi Rimasta incinta Quindi non si sono mai Sposati Ma si sposeranno E lui Prima o poi Lo organizzeremo Questo matrimonio Ma Voglio aspettare Ancora un po' Voglio Che tutto Voglio aspettare Ancora un po' Ma non troppo Ragazzi Bene Allora Per questo Aggiornamento Io credo Che sia tutto Ci vediamo Per il prossimo Che penso Sarà anche In ultimo Un bacione Grazie per essere arrivati Fino a questo punto Vi ricordo Che per sostenere Il canale Il lavoro Che faccio Potete Iscrivervi Soprattutto Ragazzi Così Venete anche aggiornati Con le news Vi ricordo Che sono su tutti i social Twitter Facebook E Instagram Mi trovate come CG Creations E soprattutto Lasciate un like Se questo video Vi è piaciuto E fatemi vedere Nei commenti Cosa ne pensate Ciao 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 Ciao